Samparo 19 settembre 2009, ritorna Caffe News TV. Io sono Mario Secondo, uno dei redattori di www.caffenews.wordpress.com. È un anno dalla mattanza degli africani a Castelvolturno. Saremo in collegamento diretta telefonica con il padre Giorgio Poletti del centro comunale di Castelvolturno, che ci farà il punto della situazione ad un anno da quel terribile eccidio dei seganesi. Successivamente, alle parole di padre Giorgio Poletti, avremo la nostra Francesca Magno, fresca collaboratrice da Reggio Calabria, che ci illuminerà sulla nuova iniziativa di Amnesty International, denominata Io pretenendo dignità, nell'ordine dei diritti umani. Il 19 e 20 settembre 2009 c'è questa manifestazione sui diritti umani. Sappiamo il momento storico che stiamo vivendo. Qualcuno ci ha chiamato Farabutti ieri sera in TV e il nostro direttore Paolo Esposito si trova a Roma, a Piazza del Popolo, per la manifestazione sulla libertà di stampa. Insieme a tutti i ragazzi che hanno contribuito all'ultima edizione del Festival del giornalismo di Perugia 2009, faremo il punto della situazione con Paolo Esposito. Che dirvi, se volete collaborare con il nostro giornale partecipativo o con la nostra TV, i contatti sono in sovraimpressione, scriveteci a CaffeNews.it. Io sono Mario II, uno dei redattori, vi aspetto sabato 19 settembre alle ore 15 su CaffeNewsTV. Non mancate!